Un'anziana di 86 anni è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali con l'ausilio di una stampella. E' quanto successo questa mattina a Ravenna attorno alle 10.30. Secondo una prima ricostruzione del sinistro, da parte della Polizia Municipale di Ravenna intervenuta sul posto per i rilievi del caso, pare che l'anziana stesse attraversando Via Trieste quando è stata colpita da uno scooter che procedeva sulla carreggiata in direzione centro città. La donna è stata violentemente sbalzata sull'asfalto, le sue condizioni sono apparse subito gravi. Immediato è stato il soccorso del 118 che all'arrivo ha trovato l'anziana in stato di incoscienza. L'ambulanza, visto le gravissime condizioni, l'ha portata al trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena, dove sta lottando tra la vita e la morte. Illeso invece il conducente dello scooter. Notevoli disagi alla circolazione per permettere i rilievi della Polizia Municipale. In questo medesimo punto, a gennaio di quest'anno, un anziano con le sue due nipotine di 5-8 anni era stato investito da una sede Ibiza sulle strisce pedonali.